Sono partiti e finiranno nel mese di maggio i lavori di riqualificazione del Parco del San Benedetto a Gubbio. L'intervento, finanziato dal Gallalta Umbria e cofinanziato dall'amministrazione comunale Ugubina per oltre 235 mila euro complessivi, prevede la realizzazione di percorsi interattivi di vario genere, pensati soprattutto per i più piccoli e dedicati al mondo dei dinosauri. C'era infatti la necessità di riqualificare e rivitalizzare l'area verde cittadina, ma anche di incentivare e creare un collegamento tematico con il vicino museo dei dinosauri, uno dei principali attrattori turistici della città, come ha sottolineato l'assessore alla cultura Giovanna Uccellani, nello spiegare alcuni dettagli del progetto. Verranno creati una serie di percorsi che attraverso l'installazione di modelli di uova di dinosauri e di impronte dei giganti della preistoria accoglieranno turisti e cittadini e li condurranno alla scoperta della risposta a uno degli enigmi della scienza contemporanea, perché e in che modo i dinosauri sono scomparsi. Il progetto prevede anche la sistemazione del verde, sono stati già potati gli oltre 80 alberi presenti nell'aria e dell'arredo urbano. Anche fuori dalle mura che circondano il parco verranno effettuati interventi e collocate indicazioni e installazioni per richiamare cittadini e visitatori a scoprire la nuova veste del San Benedetto e il museo dei dinosauri.